Arrivare alla radice dei problemi. Oggi continuiamo la nostra serie basata sul libro di Neil Anderson, Restoring Broken Relationships, il cammino verso la pace e il perdono. Vediamo una delle chiavi per accedere alla perfetta riconciliazione che Dio desidera per noi, sia con lui che con coloro che ci circondano. Andiamo in fondo alla questione, alla radice che è la causa delle rotture delle nostre relazioni. Può essere un'incapacità di aprirsi autenticamente agli altri, un'amarezza che ci teniamo dentro perché le nostre aspettative non sono state soddisfatte, o forse l'incapacità o la riluttanza ad andare avanti dopo essere stati feriti. Ma ho una buona notizia per te. Se sai accettare la responsabilità delle tue azioni e dei tuoi pensieri e permetti a Dio di prendere il suo posto nella tua situazione, sei già sulla strada giusta. Il Signore vuole incoraggiarti oggi. Conservate il vostro cuore con tutta la diligenza perché da esso scaturiscono le sorgenti della vita. Proverbi 4.23 Dio, nonostante le circostanze, non cessa di essere Dio. Ti ama e si prende cura di te. Fai il primo passo, cercalo e tuo padre si lascerà trovare da te. Ti invito a confidare in Lui oggi con tutto il tuo cuore. Grazie di esistere. Eric Selerie